Si è tornati in aula per il crack di Banca Etruria Filone, consulenze d'oro, l'ultimo aperto dalla procura di Arezzo. La pubblica accusa, contesta agli imputati di aver speso circa 4 milioni e mezzo di euro in consulenze definite inutili e ripetitive, affidate nel 2014 dal CDA della banca per valutare, analizzare e successivamente avviare il processo di fusione con un altro istituto di credito di elevato standing come richiesto dall'autorità bancarie. In tutto 14 gli imputati in questo filone tra loro anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena e ancora Alessandro Benocci, Rosanna Bonollo, Claudio Bugno, Daniele Cabiati, ultimo direttore generale, Carlo Catanossi, l'ex vice direttore Emanuele Cuccaro, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori, Luigi Nannipieri, Luciano Nataloni, Anna Mariano Centini, Claudio Salini e Laria Tosti. Nell'udienza di oggi sono stati ascoltati due imputati, Nataloni e Cabiati, mentre l'ex dirigente, Sergio Bertani, responsabile del settore crediti, è stato ascoltato come testimone. In sostanza, nella ricostruzione degli imputati emerge il fatto che la banca fosse considerata solida fino al 2012. In particolare è stato Daniele Cabiati a ricordare di aver personalmente dovuto rivedere i costi delle consulenze. È stato anche specificato che quanto speso e il numero dei consulenti incaricati fosse logico in una situazione di questo tipo. Nella prossima udienza, fissata per il 23 di marzo, ci saranno le deposizioni dei consulenti della difesa, ma nessun altro testimone tra gli imputati.